E adesso veniamo alla nostra identità regionale. La sicurezza stradale per ciò che concerne la Statale 16 nella zona del Poggiano preoccupa e non poco, soprattutto per la scarsa illuminazione nel tratto che va da Torre Maggiore ad Apricena. Se ne va da portavoce la Regione Puglia che ha chiesto direttamente all'ANAS di intervenire sulla situazione in corso in questi mesi su quel tratto. I fondi regionali hanno messo in evidenza che il tema della sicurezza stradale e della incolumità degli automobilisti va approntando anche costante migliorie alla viabilità, motivo per cui si è chiesto un immediato intervento a risolvere le criticità che tanti automobilisti chiedono, soprattutto anche i lavori di rifacimento ed implementazione della segnaletica orizzontale ed anche di illuminazione, in modo che le due rotonde del tratto compreso tra Torre Maggiore, San Savero ed Apricena siano bene visibili agli automobilisti, sia nelle ore diurne che in quelle nottune.